ho messo anni cazzo a fare sto cosplay è arrivato l'umore si vede l'impegno salco in festa ciccio in festa si vedono le mani però eh vabbè cazzo ma perchè dobbiamo farse troiate perchè no? spaccalo la stai iniziando su io stavo già registrando cos'è che devo scrivere? l'intrombabile l'evidenziatore si legge si legge si legge nero su nero è uno scherzo ma quanto è lunga? è intrombabile ma forse beh verde è bello no ma si vede si vede bene guardalo guarda questa maglietta spaccala riprendi qua che cazzo di maglietta c'hai? non sono non sono virgine cos'è? non sono arrotala porca merda non sono straniero non sono sono straniero ma porca ce l'hai? no devi mettertela perchè non ce l'hai addosso non ce l'hai addosso io l'avevo già vista io l'avevo già vista io l'avevo già vista scritto bianco su nero cazzo cazzo vuoi salutare qualcuno mamma? io tutti hai visto? zero filtri saluto tutti boh lo uso come vlog questo è vaffanculo dai ciao Z ciao Z ciao no come non dovevi salutarmi ammazzati bravo ma ti avevo caduto a te ciao Tommy dove lo vuoi? si poi c'è anche un pinguino c'è anche un forno che forte c'è anche uno molto gaio sono incredibilmente eterosessuolo il rosa è il nuovo colore per i maschi ovvio comunque facciamo le cose serie ricordiamo sabato alle sabato alle 16 e domenica a mezzogiorno ci trovate di fronte lo schermone gigante di League of Legends ciao la luna di notte domenica